Altra figura che può essere, che deve essere riscontrata all'interno di questo famoso organigramma della sicurezza è il preposto. Il preposto non è altro che un lavoratore che oltre a svolgere il proprio incarico di lavoratore all'interno dell'attività lavorativa ha il compito di supervisionare che vengano messi in atto tutti quelli che sono gli adempimenti di sicurezza previsti dal datore di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il preposto deve svolgere un corso di formazione di otto ore con un aggiornamento, in questo caso biennale, quindi ogni due anni. Altre figure da dover nominare all'interno dell'organigramma della sicurezza sono gli addetti alle emergenze, addetti antincendio e addetti al primo soccorso aziendale. Gli addetti antincendio devono seguire un corso di formazione in relazione alle macro-categorie, sempre tenuto conto il codice d'eco dell'attività lavorativa. Si tratta di un corso di formazione che prende il nome di L1, ovvero un rischio basso 4 ore, L2 8 ore, L3 16 ore. In questo caso l'aggiornamento del corso antincendio ha una validità di 5 anni. Per quanto riguarda invece gli addetti all'emergenza del primo soccorso aziendale, i corsi di formazione vengono divisi in due gruppi, gruppo A e gruppo BC. Il gruppo A prevede un corso di formazione di 16 ore, mentre il gruppo BC prevede un corso di formazione di 12 ore, in questo caso con validità triennale. Un'altra figura componente dell'organigramma della sicurezza è il cosiddetto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS. In questo caso non è il datore di lavoro che incarica questa figura, bensì i lavoratori, perché il rappresentante dei lavoratori non è altro che un capogruppo, un portavoce dei lavoratori, e pertanto si prevede che venga letto dagli stessi. Il corso di formazione per rappresentante dei lavoratori ha una validità di 32 ore per qualsiasi tipo di attività lavorativa, e va in aggiornamento annuale per una durata di 4 ore per attività lavorative fino a 50 dipendenti, di 8 ore da 50 dipendenti in su. Ultimo e non per importanza è la formazione relativa a tutti i lavoratori. In ogni attività lavorativa, nel momento in cui un datore di lavoro stipula il rapporto di lavoro con un dipendente, ha l'obbligo di formarlo. La formazione del lavoratore prende il nome di formazione generale e specifica. È una formazione che tiene conto dell'attività lavorativa che dovrà prestare il lavoratore all'interno del luogo di lavoro. È una formazione che si suddivide in macro categorie, rischio basso, rischio medio e rischio alto. Il rischio basso prevede una formazione di 8 ore, il rischio medio di 12 ore e il rischio alto di 16 ore. Anche in questo caso si prevede un aggiornamento con validità quinquennale, tenuto conto che la normativa comunque ci richiede un aggiornamento anche al di sotto dei 5 anni nel caso di cambio mansione, per esempio, piuttosto che nel caso di implementazione di nuove tipologie di attività lavorative o di nuove attrezzature, semplicemente perché quello che vuole la normativa è che il lavoratore che deve svolgere un'attività lavorativa deve conoscere i rischi ai quali può essere esposto ma soprattutto le misure preventive e protettive che devono essere messe in atto per far sì che venga raggiunto quello che è lo scopo dell'assicurazione ai luoghi di lavoro ovvero quello di ridurre al minimo o, se possibile, eliminare l'insorgenza di infortuni e di malattie professionali.